sono sono Ilaria Ricci e sono la titolare del brand coordinierita by Ilaria Ricci io sin da piccola ho avuto la passione per per la moda e per l'artigianato e fatto a mano che mi è stato tramandato da mia mamma in quanto lei da giovane lavorava per una sartoria di alta moda pavese mi ha tramandato la passione per i tessuti e per tutto quello che è l'artigianato a 360 gradi questa passione che mi ha trasmesso l'ho unita a quella per la moda e ho deciso di creare qualcosa di mio che potesse nascere dalle mie mani infatti quello che realizzo sono borsa accessori e vengono prodotti tutti nel mio piccolo laboratorio qui a volpara sono totalmente fatte a mano in pezzi unici e ho piccole edizioni limitate ogni borsa è unica e soprattutto esclusiva il fatto di di creare borsa è partito un po un po così è qualcosa che non so spiegare me lo sono sentita dentro e quindi da lì ho detto che voglio fare questo e da lì sono partita come autodidatta quindi totalmente autodidatta e mi sono messa ho iniziato a dispare anche borse di altri per capire come erano come erano realizzate poi ho iniziato a visitare vari artigiani un po per tutta italia e quindi da lì ho iniziato ad apprendere proprio dal vivo come si poteva creare questo prodotto realizziamo borse per tutte le donne che apprezzano avere qualcosa di unico ed esclusivo i nostri prodotti possono essere portati sia dalla ragazzina sia da una donna adulta quindi non abbiamo un target ha definito e fare una borsa non è una cosa scontata come può sembrare ci sono tantissime fasi di lavorazione lo studio del modello della borsa poi la messa in pratica con un cartamodello e quindi le misure lo studio delle prospettive delle dimensioni e dopo questo si passa poi alla fase della della scelta dei dei materiali dei tessuti io sono specializzata nella lavorazione dei tessuti e è una cosa anche da un certo punto di vista molto più complessa della lavorazione della pelle perché ogni tessuto è a sé c'è quello più leggero quello più morbido quello più strutturato per cui ognuno ha una sua caratteristica e non tutti tessuti possono essere adatti per tutti i modelli di borse quindi ogni modello ha la sua caratteristica e il suo tessuto e quindi anche queste sono cose che poi si imparano ovviamente con con le esperienze ormai sono nove anni che ho iniziato la mia attività nel settore e ho girato per tutta l'italia ho visitato i migliori artigiani italiani che lavorano anche per grandi grandi brand e quindi da lì io ho imparato quello che è la lavorazione di una borsa quindi tutte queste fasi anche molto complesse che vanno a creare un prodotto finito che poi caratterizza anche un po le donne insomma la borsa è l'accessorio più più importante per per noi donne all'inizio come tutte le cose non è stato facile abbiamo iniziato con i social quindi in questi comunque era un po anche nove anni fa l'inizio di questo nuovo modo di comunicare online e da lì siamo riusciti a farci conoscere a farci notare da un'organizzatrice di eventi che ci ha selezionato per partecipare al fuorisalone di pitti nel gennaio del 2014 quindi noi questa impostata il primo test che noi abbiamo fatto per vedere se quello che avevamo realizzato poteva piacere a quello che era il mercato ho capito che la pelletteria era qualcosa di un settore anche molto importante dell'italiano della lavorazione manuale e ti consente proprio di creare come dire un prodotto studiato al 100% da te noi abbiamo una tradizione artigianale ma in tutti i settori che non ha uguali nel mondo ma infatti appunto noi abbiamo fatto tanti progetti all'estero proprio per questo motivo in italia in realtà il made in italy non è così apprezzato anche se se ne parla sempre però poi in realtà non viene spesso non viene capito e quindi abbiamo detto ripartiamo da qui a far conoscere quello che che realizziamo e ho aperto è già un anno il mio primo negozio a bobbio le difficoltà ci sono tutti i giorni e soprattutto per un'attività giovane come la mia che quindi non ha alle spalle 30 o 40 anni di storia cioè sono un'attività relativamente giovane sono 9 anni che ho iniziato e le difficoltà ci sono soprattutto perché io sono partita anche da zero quindi io non ho avuto conoscenze che mi hanno spinto piuttosto che anche grandi investimenti alle spalle quindi tutto quello che che ho fatto e che ho realizzato è frutto di un piccolo passo per volta ho una mia impronta che lascio in ogni borsa che realizzo non è solo il tessuto ma è un po' tutto quello che che ruota intorno a 360 gradi quindi è proprio anche dalla realizzazione del modello che io penso e concepisco e nasce da da un'ispirazione che è sempre diversa quello che ci identifica che noi mettiamo su ogni nostro nostra borsa è il logo della Volpe che racchiude un po' tutta la nostra filosofia quindi la filosofia del legame con il territorio perché noi veniamo da Volpara quindi da qui anche dalla Volpe è l'origine del nome di Volpara l'animale perché noi utilizziamo solo tessuti e non materiali di origine animale proprio per la nostra filosofia di tutela dell'ambiente e quindi anche di tutela proprio della sostenibilità il consiglio è quello di un consumo consapevole comprarne una di qualità e fatta in un certo modo e soprattutto anche da attività artigianali quello che viene prodotto artigianale non ha uno spreco un'ilaria tra dieci anni è un'ilaria con sicuramente un'attività più sviluppata di oggi più grande però sempre mantenendo quella che è l'origine perché quello che mi preme che è un po' il mio sogno è rimanere così quindi con una lavorazione manuale prodotti non in serie Grazie a tutti